27 Stolpersteine dell'artista Gunther Demnich sono state collocate a Torino, in memoria delle vittime del nazismo. Anche il Consiglio regionale rappresenta l'installazione della 50 millesima pietra d'inciampo europea, posata in corso massimo da 012, dedicata a Eleonora Levy, arrestata dai tedeschi e deportata da Auschwitz. Le Stolpersteine sono il primo monumento dal basso, ideato e realizzato per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Quello che sta succedendo in questi giorni in Francia indica che l'antisemitismo e il terrorismo e il rifiuto della vita umana sono ancora presenti nelle nostre comunità. Per questo siamo qui, a ricordare Eleonora Levy, uccisa in un campo di concentramento, il più famoso dei campi di concentramento da Auschwitz, perché i torinesi si inciampino sul suo nome camminando su questo marciapiede e ricordino quello che è successo.